Il 23 gennaio del 91, dei missili scudo sono caduti su Haifa. Ti hanno messo in salvo e ti hanno portato via con un altro neonato. E nel panico, sono stati scambiati i bambini. Vuoi dire... vuoi dire che sono l'altro? No! No! Le grandi prove sono fatte per i grandi uomini. Grazie a tutti!